Non vera innovazione, quanto piuttosto una minestra riscaldata. Le schede contenute nella bozza della Regione Abruzzo per l'utilizzo dei fondi del Recovery Plan sono di fatto progetti superati dalla storia. Questo è il commento di Legambiente Abruzzo a proposito dei 74 progetti per oltre 9 milioni di euro che andrebbero a comporre il piano della nostra Regione. La parte innovativa, secondo Legambiente, è minimale e non sufficiente ad imprimere la vera svolta green richiesta dall'Europa. Ma se ne può ancora parlare, per esempio, ascoltando le idee dell'Associazione. La Regione si è dimostrata aperta su questo percorso. Ovviamente loro hanno fissato dei progetti di partenza definendo anche dei volumi di spesa. Su quello c'è bisogno di una partecipazione dal basso, anzi questo momento vuole essere anche un invito ad andare in questa direzione perché non dobbiamo dare l'alibi alla parte politica di dire che non c'è stata risposta da parte del territorio. È chiaro che l'Abruzzo non ha ancora questa forza costruttiva di progettazione in modo così allargato ma anche per noi deve essere un laboratorio. E io penso che in questo momento ci vuole la responsabilità di tutti, non solo della parte politica perché poi le direzioni hanno fatto un lavoro importante per cercare di dare comunque dei contenuti all'interno di questa programmazione. Il discorso è che bisogna spingere sulle priorità, bisogna rispondere in modo pieno a quelli che sono gli indirizzi della Comunità Europea. Dobbiamo dire quello che è strategico e puntare su quello togliendoci di torno le vecchie zavorre. E fra le vecchie zavorre ci sarebbero per esempio la troppa mobilità su gomma e la scarsa intermodalità e ancora impianti di risalita lì dove il cambiamento climatico imporrebbe delle scelte totalmente diverse per rendere fruibile a livello turistico la montagna e, terzo punto, la questione portuale. Si pensa più alla manutenzione, dice Legambiente, che ad una progettazione responsabile. In definitiva, conclude Legambiente, è come se si volessero utilizzare i fondi della Recovery Plan per portare a termine una manciata di opere avulse da una visione di insieme sul futuro, una strategia per la ripresa e la resilienza. Dobbiamo avere la capacità di costruire insieme col territorio queste sfide sulla resilienza e sull'adattamento climatico perché questo è il tema centrale, con una particolare attenzione di risorse destinate anche al centro-sud perché noi abbiamo ancora una questione meridione in atto.